Voglio salutare tutte le amiche atalantine che sono qui questa sera, ciao buonasera e poi voglio salutare tutti gli amici atalantini, buonasera, ciao ragazzi non riesco a star ferma, io non so voi come fate lì a stare fermi quindi bisognerà cominciare a saltare tra un po', grazie, grazie per l'aiuto Siamo pronti qui? Non ho sentito, Bergamo è già pronta? Ecco questo mi piace, lo facciamo sapere da qui direttamente a Roma che siamo già pronti sulle bandiere ragazzi Meravigliosi